benvenuti a tutti qua con questo nuovo video gestisco questo canale da molti anni ormai dal 2014 e oggi sono qui per farvi vedere un gameplay su minecraft sto registrando con un programma chiamato invidia shadow play che è molto più leggero di altri programmi ad esempio ho comprato la licenza di benticam insieme a bandicoot l'ho pagata 35 euro se non sbaglio e quello è il miglior programma per registrare però chiamo che influisce un pochino leggermente un pochino sulle prestazioni ovviamente dipende a quanto impostate il bitrate influenzate più o meno le impostazioni video quindi questo più che essere un video che andrà sul canale è un video prova e farvi vedere effettivamente quello che accade qua c'è il lag che c'è qua e quello che c'è quando io non sto registrando quindi è un esempio pratico adesso facendo perdere che non perde più l'enter per vedere questo lag che ce l'ho anch'io ma quello che succede pure in real quindi prendiamo l'esperienza di qua questo è un sistema che ho fatto dopo ero qua venuto a fare un poco di esperienza l'unico metodo per poter andare live streaming col mio computer comunque è un bel pc c'è pensavo questo fino a quando non ho scoperto che registrando con benticam mi influiva così tanto sulle prestazioni perché io sento quel leggero lag non è influenzabile tanto però è influenzabile quel che basta per non avere una registrazione fluida in questo momento io sono fluido così vedete però se registrasse con benticam non avrei la stessa fluidità bensì sentirei un poco di pesantezza ovviamente questo è dato dal fatto che ho un processore che i disette e ovviamente non basta o magari è per la scheda video comunque qua siamo nella mia farm di enterman siamo in una versione hardcore su cui nel mio canale ho fatto alcuni video al riguardo di questa versione qua a fare un poco di esperienza un po' di cose quella la farm di pesca anche a cuocere del ferro per completare la mia farm per le fornace automatiche mi è venuto in mente perché non provo a fare un test registrando con invidia shadow play e vedere se ho la stessa pesantezza ho avviato la registrazione adesso che questa che state guardando e questo lag non c'è più a differenza di benticam quindi benticam è sì il programma migliore per registrare a parer mio sempre però se paragonato a invidia shadow play come scattosità e velocità vince shadow play però benticam è molto più qualitativo a parer mio comunque shadow play è un software dedicato per le schede video invidia quindi ovviamente da quel punto di vista è ottimizzato in modo che non lagga ma che dia comunque una buona qualità al risultato finale del video che si andrà a editare o a pubblicare direttamente invece benticam è un poco più complicato però sempre un ottimo programma ripeto e parlando di questi portali mi è capitato una cosa strana prima prima sono andato nel portale dell'end per andare qua per l'appunto nell'end e mi è capitato che ero finito nella lava quella che sta sotto prima che ho attivato il portale sapete era un bug che è durato tipo due secondi mi stavo per lanciare con l'end dopo ho ricomparso il portale mi ha teletrasportato e dico ma what the fuck is happening era la mia reazione ora so che non si dite né le porte né altre cose ma per semplice fatto che ho disattivato momentaneamente i blocchi perché mi davano tantissimo fastidio aspetta che devo dare da mangiare a ok qua è finito no ok è ancora finito quindi possiamo raccogliere le zucche questo è un video totalmente a caso non è cioè sul video cioè sul mio canale ho fatto dei video riguardanti questo mondo che sono più che dei video sono delle live streaming di quattro episodi questo mondo lo iniziai a febbraio del 17 del 2017 se non erro con il mio vecchio pc ed è un mondo che ho sempre continuato a fare giocare a minecraft per me è una cosa randomica perché va a periodi come altri giochi però quando ci gioco gioco sempre questo mondo più che la survival sapete perché gioco più questo mondo perché sono fatto così cioè io penso questa cosa minecraft la versione hardcore e survival sono due modalità differenti l'hardcore è una vita sola mentre nella survival quando muori puoi esponare con la possibilità entro quattro minuti di poter recuperare i tuoi oggetti ok visto che io sono in hardcore quindi ho questi cuori qua devo stare molto attento a quello che faccio è più difficile quindi questo qua mi spinge a continuare il mondo a giocare perché so di avere una vita sola mi dà più coraggio invece mi stuffa si può dire così giocare nei mondi quelli mondi non zerrotta quelli survival detta così ad esempio in una live streaming che trovate sul canale twitch se non sbaglio in descrizione oppure delle informazioni del canale da qualche parte o comunque ha lo stesso nome del canale trovate la farm di carote che ho fatto quella sera a riproduzione la stessa c'è della glowstone, degli slab di pietra, dei cobblestone wall, una fornace sempre così a ripetizione con delle torce messe penso a un po' di simmetria nello stesso punto e diciamo che la costruzione che mi ha tenuto più impegnato nel mondo è stato il magazzino perché magazzino comunque non ho preso spunto da nessun tipo di video tutto quello che vedete fatto l'ho fatto io ogni volta che completavo una cosa uscivo fuori così e vedevo se era simmetrico e quello che facevo da quella parte lo copiavo da quella parte perché che era successo? che ero uscito alla versione quella se non sbaglio dove era uscito i magma blocchi che sono questo blocco rosso qua ho preso un paio di blocchi della mia ceste ho fatto questa costruzione qua qui all'interno troviamo l'uovo del drago qui c'è il mio lettino viola e qui c'è un armatore in maglia che comunque ho trovato dai mob alla mia farm di zombie adesso io non so dove finita quella farm ma io c'avevo una farm di zombie che non mi ricordo più come ci si accede io ve la farei vedere e tra l'altro in questo mondo se si può dire sapete che c'era la cosa dei 24 mob massimo che potevano stare all'interno di un singolo blocco io quella cosa l'ho disattivata perché comunque non mi andava di farm cioè avevo già poco tempo a disposizione poi dovevo farmare pure con quel tipo di comando attivo questa cosa non mi piaceva più di danno quindi ho preferito toglierla da quel punto di vista bene fatemi fare dei blocchi ah un blocco ovviamente potevo fare solamente quello che abbiamo posato questi sono il mio inventario 12 blocchi di diamante e 16 diamanti per l'appunto qui delle mele d'oro ingantate quelle di... che non si possono craftare in questa versione ricordo queste qua si trovano solamente nelle geste di dungeon che in questo mondo ne ho trovate tanti questo mondo l'ho costruito qua vedete tutte le strutture sono vicine non ho fatto nulla né da quella parte né da quella né da quella né da quella là ok la lì c'è sta solo la farm e da qua non si vede c'è sta un portale del netto su una montagna che è la farm di blocchi di ghiaccio questa è la mia prima farm di galline perché io era notte mi sono rifugiato qua dentro poi ho fatto la scala eccetera eccetera e poi all'ultimo ho deciso di uscire qua c'è il mio primo letto dove c'è un quadro e poi gliel'ho messo dopo questa è la mappa dell'esploratore di foreste che l'ho trovata quella della casa vedete dei villagers quelli quelli pirichini andando qua da questa parte invece da qua c'è la farm di slime che purtroppo non è molto proficua molto efficiente qui la porto l'ho aperta io avete vedete non l'ho appena svuotata però non sono rimasto molto colpito bene vedete qua ci sono dei cartelli questi per i tunnel di scavaggio qui ci si torna comunque cioè sono ovviamente a casa però non è l'escavaggio fino a un certo punto perché comunque andando sotto 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 con queste scale che ho messo io proprio all'inizio qui si va per la pozza di lava invece qua si va per le caverne di tresponer mettiamo anche una bella costoletta qui ci stavamo proprio morendo di fame ah qui è col aaaaaah ho capito ho capito qui dovrebbe starci ah eccola qua questo era un modo più accessibile per andare alla farm di zombie ok vedete qua c'ho un po' di libriche comunque non sono tutte queste quelle che ho c'ho altre farm in cui ne ho di più e qui c'ho il tavolo degli ingandessimo ovviamente e qui c'ho la farm di zombie dovrebbe funzionare sperando ah qui si va la farm di ragni qua sotto non è mai stata proficua perché comunque loro si arrambicavano se ne andavano eccetera eccetera qui c'ho il portale dell'ente che non mi ricordo a cosa servì cioè dove portasse ah forse potrebbe andare subito a casa l'ho fatto questo è che non funziona più a me sa che non funziona più questa farm peccato era una bella farm veramente però essendo qua possiamo fare dei libri dai visto che ci siamo facciamo il primo beh vediamo che ci da potenza 3 e ce lo mettiamo lì dove non batte il sole protezione 3 mamma mia le peggio cose contro il colpo cioè rega io guarda mi faccio capire non è che ho equipaggiamenti stupidi c'ho un breaking 3 efficienza 5 poi c'ho questo col sick touch un breaking 3 efficienza 5 poi c'ho questo qua col ripristro pure a fortuna un breaking efficienza 5 un breaking 3 efficienza 5 l'arco della vita che ne ho un altro pure adesso ve lo faccio vedere chi bella questo ma con un qualcosa in più e poi c'è la spada rega questa è la spada che c'è finita proprio contro il colpo 2 un breaking 3 una tema 5 aspetto di fuoco 2 lama spersante 3 looting 3 ripristro ce ne fave capire una bestia ce ne lascia perdere andiamo qua dentro e ecco qua potenza 5 un breaking 3 impatto 2 fiamma e mending qui c'ho il piccone che ho sprecato mi è rimasto l'ultimo utilizzo perché ho raccolto questa qua questa è lo shurka box che ho creato per il mining dove ho raccolto tutte queste cose queste sono cose per l'emergenza sapete finisce il cibo faccio una sessione pronuncata di mining che non è mai successo però potrebbe succedere queste qua invece sono le altre spade aristocrate vabbè no flame è quello che utilizzavo per gli enderman l'ho creata per non farli scappare quando li hitavo col fuoco loro si teletrasportano spersosamente unica è la spada più bella che io conosca però non ho già ripristano ovviamente quindi utilizzo questa e adesso proviamo a incantare gli ultimi due libri non voglio sprecare tutti i livelli protezione 3 vediamo se troviamo il lealtat 3 e vedete parlando del diavolo eh vedete protezione 3 voglio vedere se protezione 3 facciamo l'ultimo efficienza l'ultimo vediamo qualcosa riguardo al tre dente lama sversando protezione dal fuoco eh vabbè dai ci può stare anche pallis di contraccolpi potenza vabbè dai però lealtat se non sbaglio è un incantissimo che dovrebbe andare sul tre dente che si crafta con dei diamanti se non erro devo andare a distruggere quello principale non mi ricordo cosa devo fare per ottenerlo e possiamo anche tornare a casa però durante questo lungo viaggio questo tutto e vi dico che per questo video è tutto spero che il video vi sia piaciuto per l'appunto mi raccomando fate la campanellina per non perdervi nessun altro video e Minecraft tinta ritornerà però in questi giorni se andate sulla mia pagina di facebook guarderete il perché non sto facendo più le serie che avevo ovviamente iniziato non è che non le voglio fare e per altri motivi che se andate sulla mia pagina di facebook link in descrizione guardate il post fissato in alto e vedete il perché ho scritto un post che ho scritto tutto quindi spero ancora che il video vi sia piaciuto e niente ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ad un prossimo video bella ciao